cazzo sono 8 gradi 8 un vento e più ci si sta aveva ragione i miei compagni dove restare a casa e dove stare a casa ma rima impestata però si può dire sì posizione yoga del ciclismo saluto al cane saluta saluta i cilomani stop io ve lo dico anche qui a salire sul san vito situazione è abbastanza al limite 6 gradi vento porta via prima che si dica che stavo bleffando ora sono su castra qui ci sono 3,3 gradi il venticello si sente però diciamo che la salita non pensa borraccia la fai da te il tuo team sta benedetto 2 gradi 8 7 8 un grado qui sul pinone in questo momento assenza di vento culo però stanotte pinguini e orsi polari via il momento dello smanicato sono divertito un monte e non ho patito ciao ciao